è il tiro dell'E-W-R vai supra e sotto a 20 volte, no? quella tecnica, inspiri e gli ti fai e poi dopo giri da 20 giri verso un verso 5 verso l'altro verso prima di tirare e uscire sopra un po' il tiro dell'E-W-R l'abbiamo inventato di vittorio e tiri manco ci arrivi a tenere che ti ha mai convulsione da avere convulsione e sbatti due cazzo si si cali io usci la morte sopra un pollice e provi a tirare io ero morto che lo siano